Può andare l'uno contro uno, torna indietro da Mammarella, il cross, la respinta, poi il pallone giocato, ancora buono per Falletti, finta il tiro, tenta la verticalizzazione in area, attenzione, la palla che termina in rete, posizione regolare di Anthony Partipilo che al ventunesimo porta la Ternana in vantaggio. L'idea di Falletti per Partipilo, la difesa del Bari si è persa, l'ex di turno, Partipilo barese puro sangue, va a punire i suoi ex compagni, Partipilo che non ha insultato la Ternana, quindi passa in vantaggio al ventunesimo al San Nicola con il gol di Partipilo.